...sempra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'Arabetta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le geste di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Partita già in corso di svolgimento. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Neymar, Fabio, un giocatore semplicemente incredibile. Quando riceve palla nei piedi si ha sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di straordinario. Nel dribbling, nella conclusione rete, nell'assist per i compagni. Veramente un giocatore dalle mille risorse è quasi impossibile da marcare. Certo, il segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. Grande giocata difensiva. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Arnold. Pirlo, da Turchia, sta mettendo gli avversari in difficoltà. Vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Neymar. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. C'è Messi. Messi. Iniesta. Ottimo passaggio, deve tirare. Sensazionale punto A. Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pirlo è pronto, sarà lui a battere il calcio d'angolo. E' attento e allontana senza il tiro e ci prova. Tonta nuovamente. Grande opportunità. C'è il retro passaggio. Un'altra conclusione. E c'è il grado di Barcellona. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Bunteggio di 1-0 a Rafferto. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleadori. Errore qui, pallone sprecato. Pirlo. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più bassi, più compatti. Vogliono evitare rischi. Arnold. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Mi sembra che la squadra si stia compattando abbastanza nella propria metà campo. Sì Fabio, penso che vogliano sfruttare il contropiede. Sono d'accordo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Gli lega la gioia del gol, che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Messi. Occhio a... Allison dice di no! Neymar! Infilza il portiere! E siamo di nuovo in parità! Una sfida senza esclusione di colpi! E' come se il gol subito li avesse svegliati Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con vehemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari. Che reazione da grande squadra. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione. Il risultato è stata una palla persa. Rudiger. Mbappé. Si destreggiano con un buon possesso. Conclusione. Allison dice di no. La mette in mezzo. Neymar. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Messi. Prova a darla profonda nello spazio. Messi. Messi. Autore di un rito in questa partita. Cercano un'azione veloce. Neymar. Marchinhos. che anticipo sembra quasi prevedere il futuro. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a premere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso. Ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Prima fase della ripresa già in corso. Mbappé. Ottimo tentativo ma non trova il gol. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta ma doveva tirare. Messi si è mosso bene ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Rüdiger. Mbappé. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Arnold. Messi. Neymar riceve la palla. Neymar. Non può sbagliare. Tempismo perfetto. Bell'intervento. Kalidu Koulibaly. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mbappé. Neymar. Ci mette una pezza. Intervento provvidenziale il suo. Qui può partire il contropiede. Mbappé. Neymar. E' una parata. E' un gol della Turchia. E adesso possono tornare a controllare il match. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione ma non ha potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Adesso conducono anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Si ricomincia dal portiere. Roberto Carlos. Cercano spazio allargando il gioco. Marchinhos. Cambio di gioco per diversificare la manovra. Kimmich. Mamma mia che pallaccia rischiosa. Buono l'appoggio. Cambio di lato. Joao Pancelo. Kimmich. Palla Marchinhos. Ruudiger. Joao Pancelo. Kimmich. Marchinhos riceve il pallone. Kimmich. Ronaldinho. Riceve. Largo. Joao Pancelo. E il pallone a Ronaldinho. Iniziano gli ultimi dieci minuti. Il pallone per Neymar. Ronaldinho. Rudiger. Joao Pancelo. Gioao Pancelo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Joao Pancelo. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Messi. Decide di sfruttare la fascia. Occhio all'apertura intelligente. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La Turchia. Aspetta solo il trebice. Non c'è più tempo. Finisce qui. E hanno dimostrato veramente grande capabilità oggi. Rimanendo concentrati nel momento più difficile. E portandosi a casa la gara. Neymar. Ha disputato una partita fantastica. E viene premiato come migliore in campo. Che rimonta è Luca. Cosa ne pensi? Sono queste Fabio le vittorie che danno più fiducia.